oh cuore buongiorno si è arrivato a destinazione mi sei fatto una bella mangiata almeno soffochiamo il desiderio sul cibo già immagino quello che stai pensando e va bene dai va bene senti mo si sta mettendo a piovere di nuovo che rottura di balle sto tempo guarda una cosa pazzesca cioè non è possibile non è possibile non è possibile eh vabbè cioè mo che devo andare a prendere Giuseppe mo si senti eh niente ah per quanto riguarda Giuseppe non lo so ha preso un'infezione batterica si chiamano stafilococco una cosa del genere praticamente eh no deve stare proprio dentro casa non deve uscire almeno vabbè ci vorrebbero una decina di giorni ma quello dieci giorni non resta stare a casa non ci rimane quindi sicuramente almeno fino a domenica almeno che si prende un po che cura questo questo batterio eh sì è un'infezione che si dovrebbe prendere pure mettendosi le mani in bocca sai ti comporta questo problema ma giustamente giù al lavoro dove lavora lui hanno bisogno eh vabbè vabbè senti niente vabbè per quanto riguarda tutti questi esami fatti sicuramente sono andati benissimo altrimenti ci avrebbero detto di rimanere qualche giorno e invece sta tutto a posto qua questa è una bella cosa vuol dire che tutte le cure che abbiamo fatto hanno funzionato alla grande eh e niente qua stamattina mi sono fatto un po' più di caffè e mi sento un po' più agitato dai eh questa sensazione di sì perché troppi caffè fanno male eh babbo da oggi non me ne prendo neanche uno se no eh babbo niente ancora core oggi è mercoledì venerdì facciamo una settimana diciamo che sono passati sabato domenica lunedì martedì e mercoledì cinque giorni può essere che non lo fanno stare ancora per fine settimana lo svegliano eh sì perché sicuramente l'intervento sarà stato molto delicato e quindi preferiscono tenerlo qualche giorno in più eh vabbè eh vabbè dai ci sta ci sta senti e invece tu oggi cosa dovresti fare ti fanno lavorare del alla clinica eh vabbè vedi cosa ti dico eh va bene ma ora e niente ci sentiamo dopo ok qua il tempo non promette niente di buono babbo ci aggiorniamo a dopo core mio mi raccomando eh ciao bello ciao core mio affogati nel cibo purtroppo la mente farla per il momento pensa al cibo lo so che vuoi dici tu così tu colà tu dai forza core forza ciao core mio ciao un bacio un cuore e un abbraccio ciao ciao